Ce lo siamo chiamati, ci siamo chiamati il Poufou, è tornato nel podcast precedente in cui ho commentato la sua hit, Death Bad, e ci chiedevamo se le voci e le dicerie che lo davano per morto erano vere o meno, io infatti dicevo non è vero, è solo immaginario questo brano. E infatti così è stato, è tornato, è tornato con una bella differenza di numeri, perché insomma, perché ovviamente quando fai una hit a livello come quella replicarsi è impossibile, se poi fai un pezzo in cui hai un genere completamente diverso, quindi dal rap della passi un po' più sul cantato, è normale che questo accada. Però comunque è tornato, è tornato e dopo un grande brano di qualità, io vedo della qualità anche in questo pezzo, vedo un bellissimo video semplice di quelli proprio Acqua e Sapone, che però comunicano come lui del resto, adesso se lo potrebbe permettere a fare un video diciamo come questi New Rappers, no? Tutta ostentazione, tutto fumo, niente arrosto, invece a lui piace l'arrosto e lascia stare il fumo. Ma sono curiosissimo, al di là di come suona, che sicuramente mi piace più la sua hit celebre, però insomma sono molto curioso di vedere di cosa parla, perché insomma si percepisce una grande intensità, quindi questo podcast lo faccio proprio per me stesso. «Diciasette anni ancora, incontriamoci sulla settima strada, proprio come se avessimo di nuovo diciassette anni, l'età più felice che abbia avuto. E' così patetico che tu te ne sia andata. Eri il mio tutto. Perché i tuoi genitori hanno dovuto litigare? Azzo, bella, vedi, vedete? E' tosta questa. Praticamente è... E quindi è la storia di questi due ragazzi, di un amore che... Un amore adolescenziale che sono gli amori più intensi, perché in quell'età si ha la forza ed il coraggio di credere al per sempre. Davvero. Senza paura. Lì non si ha paura, ci si fida. E questo amore adolescenziale è finito a causa di un divorzio. Quindi doppia... Doppia lama nella schiena della ragazza di turno. Incontriamoci sulla settima strada. L'unica ragazza che mi sia mai piaciuta. E lo dice. Capito? L'unica ragazza che ha amato. Ecco, io la tradurrei così. E infatti quegli anni, 17 anni, sono stati più felici che abbia mai avuto. Io anche ero innamorato a quell'età e ho avuto effettivamente l'unica donna che ho amato. Quindi lo capisco molto questo discorso. In piedi, accanto a voi, sul ponte, tutte queste feste universitarie, con gente stupida, mi rende triste. Tempi come questi mi fanno desiderare i tempi che avevamo. Mi mancano tutti quei momenti. Domani, due anni fa, ricordo ancora, ancora ricordo, è il giorno in cui la tua immagine è cambiata da noi, insieme. Mia madre diceva di non smarrire mai il cuore. L'ultima volta che ci siamo detti ti amo è stato il giorno in cui ti sei allontanata. Sono tornato alla settima strada, sotto i lampioni dove ci baciavamo. Chi pensava che i cuori potessero spezzarsi? Non l'ho mai saputo da bambino. Ti darei qualsiasi cosa perché i tuoi genitori si sono separati. incontriamoci sulla settima strada, l'unico posto dove potevo raggiungere le stelle, proprio come se avessimo di nuovo 17 anni, i più felici. Fugiasco ogni giorno che odio senza di te. Il viaggio è lungo, ma spero di vederti presto. Sono ancora innamorato anche se hai nuovi amici. Un giorno saremo sulla settima strada e ci innamoreremo di nuovo. Bel finale, anche se non è così che vanno le cose. Quando un amore finisce, passa il tempo, è finito. Non è come nei film, non è... cadono cose. Questo ragazzo immagino che se la viva dentro di sé, ma non esiste più. È molto bello questo brano come il precedente. È molto bravo questo artista perché ci racconta solamente emozioni che vengono dal profondo, dall'intimità. Però non è tanto l'emozione in sé perché appunto non è che dici abbia raccontato, è che il modo in cui lo fa, l'ingenuità. a me onestamente piace questo fatto che ci sono dei giovani, lui 99, che hanno il coraggio di raccontarsi così e hanno il coraggio, dopo aver scritto una hit mondiale, di uscire con un brano del genere. Poteva fare mille altre scelte, invece lui ha scelto questo, ha scelto di raccontare nuovamente un'emozione. Certo è meno forte di Deathbed, sono quelle hit inarrivabili, ne scrivi una in tutta la vita. Però se questo è l'andazzo, io continuerò a seguire questo artista e continuerò a monologarlo molto volentieri perché sono quei testi che godo nell'interpretarli senza dover stare a dare troppe spiegazioni perché effettivamente già dice tutto e ogni parola in sé per sé la dico, ma è superflua.